In occasione della giornata mondiale dello yoga, domenica 21 giugno, si è tenuta una giornata dedicata allo yoga e Tai Chi One. L'evento è stato organizzato da Endas nazionale ed è stato ospitato dalla struttura Elysium di Agropoli. Oggi celebriamo due importanti date. La prima è quella di una ripartenza dello sport dell'Endas. Questo è il primo evento a carattere nazionale che mandiamo in diretta streaming, perché oramai viviamo anche di diretta streaming per gli eventi sportivi. E il secondo celebriamo la giornata mondiale dello yoga. Quindi abbiamo intitolato questa giornata Wellness Day, un po' a richiamare quelli che sarebbero stati gli sport games. L'evento da quasi 3.000 persone che avremmo fatto assieme all'Elysium, ma assieme al comune di Agropoli, che purtroppo è stato cancellato perché era per fine maggio. Oggi invece proviamo comunque a ritrovare quello spirito, a ripartire anche dall'insegnamento che ci vengono dalle arti millenarie, come il Tai Chi Quan, che è un'arte marziale interna, provente della Cina. Interna intendo che fa bene internamente, a differenza delle arti marziali esterne. E poi lo yoga, questa pratica millenaria avvolta anche da un filone di mistero, questa palestra per lo spirito. E poi abbiamo allegato un inizio, che è quello del settore del tiro con l'arco nazionale, che si presenta ai nastri di partenza delle attività Endas, visto che anche questa è stata interrotta nella primavera che è passata. Quindi è una rinascita con gli auspici della giornata del sole, perché oggi, essendo il primo giorno d'estate, è il primo giorno in cui nel corso dell'anno le tenebre lasciano il posto alla luce, nel senso che è una giornata più lunga nelle ore diurne che non quelle notturne. Quindi è un auspicio, ma soprattutto è il primo evento fatto con una certa rilevanza nazionale dall'Endas. In concomitanza c'è un evento di yoga anche nell'Endas Marche, e quindi abbiamo creato questo filo che congiunge le Marche con il cilento e il nostro punto è l'Elisimo, questa meravigliosa struttura, quale nome è più azzeccato se non quello dei campi Elisi, come la mitologia Achea ci ricorda. Questo evento da cosa nasce? Noi siamo associati dell'Endas da qualche anno ormai e abbiamo subito accolto questa occasione per poter, appunto, come ha detto anche Gianluca, ripartire. Perché questa giornata è sicuramente una giornata rivolta allo yoga, al tai chi e quindi a tutte quelle attività che vanno appunto a far riferimento a un rilassamento, a una salute mentale soprattutto, perché vogliamo appunto dare un rilancio, quindi una giornata di ripartenza, anche per quella che è stata l'emergenza del Covid. E l'Elisimo c'è, c'è sempre stata, noi abbiamo riaperto il 25 maggio con la palestra e il 3 giugno con la piscina, le nostre attività sono in pieno ritmo in questo momento. Vi ringraziamo tutti i nostri iscritti che hanno ricominciato a seguirci con grande calore e ci scusiamo per coloro che invece, come ad esempio i bambini della scuola nuoto che ancora non possono riprendere, ma speriamo al più presto di poter ricominciare e accoglierli tutti quanti. Faremo in modo che le attività continueranno anche a luglio-agosto, momenti in cui precedentemente eravamo comunque chiusi, adesso invece per poter permettere appunto alle persone di recuperare il tempo perduto durante l'anno a causa del Covid, ma soprattutto per poter permettere comunque ai ragazzi anche di ricontinuare quelle che erano le loro relazioni sociali, che magari in questo periodo di Covid, di quarantena, si sono andate perdute. Quindi abbiamo cercato di promuovere comunque anche la socializzazione dei ragazzi tramite appunto lo sport che è fondamentale. Noi ci troviamo in via Lento 1 ad Agropoli, siamo su una meravigliosa collina, abbiamo la palestra con sala attrezzi, la piscina dove facciamo corsi di scuola nuoto e di acquagym, ma anche nuoto pinnato e non solo nuoto puro ma anche nuoto pinnato e abbiamo anche varie attività, quale la TMA o comunque il nuoto per disabili. Siamo molto attenti alla necessità di tutti i nostri clienti e vi invitiamo a venirci a trovare non solo per il benessere psicofisico, ma anche per degustare una buonissima pizza che troverete alla nostra pizzeria.